Siamo qui su Dark Souls 2 e dall'ultimo episodio ci siamo avvicinati sempre di più a psicamera Abbiamo visto un piccolo video dove l'abbiamo visto che cos'è questa creatura da affrontare Per quanto riguarda i video di Lord of the Falle credo che non ce ne saranno almeno per un mese A meno di questo mese perché non ho fatto l'abbonamento plus questo mese I giochi che offrivano mi sono piaciuti, affatto E quindi ho deciso di non fare l'abbonamento Perché è impossibile? E quindi Essendo un gioco plus, quindi l'ho scaricato con il plus e i Darksiders Scusate Darksiders Lord of the Falle Devo essere per forza plus Ora puoi andare Ok Vai E quindi Per poterlo giocare devo essere per forza plus e quindi non posso trasmettere video Ma comunque nel frattempo Continuerò sulla serie di Darksiders ovviamente Ma vediamo un po', c'è aperto una porta di là Però Mmm Allora di là con il... Ah di qua abbiamo anche una porta Ok Che cos'è qua? Mmm Ok E qui dove cazzo ci buttiamo Mmm Allora Fammi capire di qua se io No di qua credo che non possiamo fare nulla C'è E che cazzo Ok Vai lì Ci apre questa porta Ok Ok Vai Perfetto Perfetto Questi cazzo di mosherini Che non Palle Ancora qui sei Dio santo Ecco qua Ecco qua due due forziere Puttanate 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 Che le prendiamo ovviamente sempre per il potenziamento delle armi Di qui dove andiamo a finire Ok 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 C'è parto questa leva Va bene Va bene Vediamo un po' Se c'è qualcosa qui Non credo Non credo Via dalle palle Basta Cazzo di mosherini Cazzo di mosherini Non sto uscendo Nemmeno nemico Un po' Puttosto C'è Queste schifezze Ok 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 eccoci qua ecco qua un po' di nemici eccoci qua ok attenzione chi è lui? un altro gigante e infatti proprio per quello attenzione attenzione perfetto è morto oh cazzo chi sono quelle? sono misidiale queste qua cazzo sono pericolosissime oh dentro d'amore ah cazzo forse abbiamo sfruttato un po' troppo l'attacco pesante qui eh ahia che finale no abbastanza perfetto spallacce spine dell'assassino vabbè controlleremo tutto dopo beh questi non c'è bisogno che li chiamo me ne credo no per quello cazzo sto andando ah sì 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 bisogna per forza chiamarle non è possibile ah vabbè quindi e quindi ok di qua non si sa dove ci porta ah di nuovo ah ci ha aperto quella quella porta praticamente iniziale ok 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 che cazzo di vesta di merda vesta che cazzo sono un altro eliquo di perfetto perfetto mi servirebbero un po' di pozioni eh in realtà perfetto ragazzi da qui che dove ci porterà la boss fight perché vedo troppo una luce abbastanza scura eh credo che c'è un combattimento quindi non abbiamo pozione quindi mi preoccupa questa cosa non so se dobbiamo tornare indietro e comprarne qualcuna non lo so comunque ragazzi siamo proprio di fronte allo Psicameron eh circa qualche metro distante da dove stiamo c'è questo questa creatura che dovrebbe controllare diciamo il eh terzo giudice quindi ragazzi ci vediamo alla prossima con Dax Aders 2 con lo scontro contro lo Psicameron alla prossima ragazzi ok ok ciao 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 ciao